Il comportamento del singolo utente gioca un ruolo quasi fondamentale quando si tratta di risparmiare energia. Il comportamento di ogni singolo individuo è quindi essenziale per raggiungere gli obiettivi climatici di Parigi. Oltre a contribuire all'ambiente, i consumatori consapevoli sono in grado di risparmiare molto denaro evitando inutili sprechi di energia. I prodotti con i, made in Germany, tengono sotto controllo il consumo di calore e acqua. Il leader di mercato per i dispositivi di misurazione e i sistemi di lettura dei contatori in Europa e in Germania è già presente. In oltre 8 milioni di case con con i, le famiglie potranno presto risparmiare fino al 20% del loro consumo energetico con i, con i in dettaglio, quasi 30 anni di esperienza nella registrazione dei dati di consumo indipendente sa dal marchio per gli utenti grazie a sistemi aperti con i punta sulla sostenibilità e sulla tutela dell'ambiente sintesi del fornitore di strumenti di misura con i CUNI in dettaglio. Quasi 30 anni di esperienza nella registrazione dei dati di consumo. CUNI GMBH è nata nel 2009 dalla fusione di CVE di secondo Saistemt Schnee che si avvale di un'esperienza pluriennale nel campo della registrazione dei dati di consumo. L'azienda è riconosciuta come pioniera nello sviluppo di sistemi nuovi e innovativi per la registrazione dei dati di consumo. Con l'aiuto di CONI, le famiglie potranno presto misurare e analizzare i propri consumi energetici e imparare a utilizzare le risorse in modo più responsabile. L'azienda, nata come produttrice di ripartitori dei costi del calore, offre ora anche soluzioni di sistema completo e per i servizi di lettura dei contatori. La cosiddetta lettura automatica dei contatori combina ripartitori di costi di calore, contatori di acqua e calore, nodi di rete e gateway. I dati raccolti vengono raccolti su una piattaforma basata su cloud. Le informazioni vengono attualmente utilizzate dalle società di lettura dei contatori per la fatturazione dei costi di riscaldamento e acqua. CUNI sta inoltre lavorando a un portale di dati sui consumi per gli inquilini. Entro la fine del 2020 le famiglie potranno visualizzare e regolare regolarmente i propri consumi e le relative statistiche. Indipendenza dal marchio per gli utenti grazie a sistemi aperti. Le soluzioni di sistema CUNI si basano sullo standard di comunicazione Open Metering Sistema OMS. L'amministratore delegato di CUNI, Folcherec, è uno dei membri del consiglio di amministrazione dell'associazione OMS Group. Lo standard significa che i prodotti di un'ampia gamma di fornitori possono essere combinati e facilmente integrati nei sistemi esistenti. Ciò significa che i clienti che si occupano di lettura dei contatori non sono vincolati a un unico fornitore e possono scegliere da soli quali prodotti combinare. Tutti i dati raccolti possono essere letti tramite la piattaforma di Smart Metering CUNI. Con questa soluzione di hosting, CUNI facilita le funzioni di fatturazione, analisi e monitoraggio dei costi operativi. CUNI mette a disposizione dei partner questi servizi basati su Internet. Le soluzioni di sistema intelligenti sono associate a un notevole aumento dell'efficienza e allo stesso tempo consentono nuovi modelli di business. CUNI è leader di mercato in Germania e in Europa per i dispositivi di misura, CUNI. CUNI punta sulla sostenibilità e sulla tutela dell'ambiente. Grazie alle soluzioni di sistema di CUNI, i costi energetici e di riscaldamento possono essere ridotti fino al 20%. Se si considerano gli apparecchi CUNI in uso, ciò corrisponde a circa 5 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti all'anno, ovvero alle emissioni annuali di una grande città tedesca di 500 mila abitanti. Grazie alle soluzioni di sistema di CUNI, anche le singole famiglie potranno presto dare il loro contributo alla protezione del clima. CUNI si impegna anche per una qualità sostenibile dei prodotti offerti. Le linee guida sulla qualità devono essere rispettate e il sistema di gestione ambientale dell'azienda è costantemente monitorato. CUNI ha inoltre introdotto un sistema olistico di gestione degli inquinanti e un sistema di ritiro dei vecchi elettrodomestici unico nel settore. Dal 2016, CUNI sostiene l'iniziativa ambientale internazionale Plant for the Planet con eventi informativi sui cambiamenti climatici e sulla protezione del clima, nonché con campagne di piantumazione di alberi. CUNI GMBH si impegna attivamente per la tutela dell'ambiente. CUNI, sintesi del fornitore di strumenti di misura CUNI. CUNI offre una risposta alle solite affermazioni su cosa può fare un singolo individuo per combattere il cambiamento climatico. Le soluzioni di sistema complete possono portare a risparmi energetici fino al 20% nelle famiglie, se i residenti possono controllare regolarmente i loro consumi. Il comportamento degli utenti viene analizzato, i punti deboli vengono identificati e il consumo energetico viene ottimizzato. In questo modo le famiglie possono evitare il consumo di energia non necessario e risparmiare allo stesso tempo ingenti somme di denaro. A lungo termine, si tratta di una situazione assolutamente vantaggiosa per tutti. Tutte le aziende innovative del nostro PrettySmart, i link contrassegnati con sono i cosiddetti link di affiliazione. Se viene effettuato un acquisto tramite tale link, riceveremo una commissione. non ci sono costi aggiuntivi per voi.